Buongiorno Davido, in questo podcast quasi giornaliero parlo di news intorno al mondo della tecnologia, del coding soprattutto, del mondo del cloud, dell'intelligenza artificiale che ormai fa parte in maniera costante del nostro palinsesto, ecco, e faccio una sorta di rassegna prendendo dalle fonti che più mi sembrano autorevoli, ecco, e i topic che più risaltano negli ultimi giorni e qui do un'occhiata e poi ne faccio un po' un riassunto, insomma, un sunto di alcune di queste news, magari anche dando degli spunti poi da approfondire. Questo è quello che faccio, lo dico per tutti quelli che sono atterrati sul mio podcast nello scorso episodio cercando la keyword Pornhub, perché gli analytics li vedo, e uscendo pochi secondi dopo, non so che cosa si aspettassero di trovare esattamente, invece ci sono qua io e faccio questa robetta, quindi se vi interessa, ecco, continuate a seguirmi in maniera così splendida e meravigliosa, e altri invece, mi dispiace per voi, non sono il video che stavate cercando. Bene, oggi parlerò in maniera potente di intelligenza artificiale, di nuovo riprenderemo il tema che abbiamo toccato la scorsa settimana con appunto la disputa tra il New York Times e OpenAI sui diritti d'autore e guarderemo anche altre cosette che riguardano questo mondo. Prima però di addentrarci nel vivo delle news, un commentino sul nuovo presidente della commissione intelligenza artificiale in Italia, che è padre Paolo Benanti, il nostro sacerdato è francescano. Ecco, innanzitutto, se volete avere una idea un po' del personaggio di Paolo Benanti, vi consiglio di ascoltarvi un episodio del podcast Gitbar, dove appunto viene intervistato padre Benanti, in cui con Mauro appunto parlano un po' di quello che fa, delle questioni di etica, del codice e si tocca anche l'argomento dell'etica nell'intelligenza artificiale, quindi vi consiglio di andarvi a guardare e a sentire, anzi, quella puntata così per farvi un'idea più precisa. Ma sul tema in sé, mi sembra che ci sia una cosa che sfugge un po' delle discussioni, sia quando si parlava di Amato prima e sia quando si parla di padre Benanti adesso, che diavolo fa questa commissione? Che cosa deve fare? È importante? Non è importante? È importante che ci sia una persona specifica al comando oppure no? E quindi ho trovato l'unica indicazione davvero chiara a questo sul post. Vi leggo da un articolo che si intitola Cos'è tutta questa storia della commissione sull'intelligenza artificiale? Allora, questa commissione, cito, è istituita dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una struttura che fa riferimento alla Presidenza del Consiglio ed è guidata dal Sottosegretario Alberto Barachini. Il compito della commissione è consigliare il Dipartimento sulle eventuali strategie da seguire per gestire le implicazioni dei software di intelligenza artificiale sul settore dell'informazione e dell'editoria. E questo mi sembra un punto chiave, no? Si parla di una commissione che deve dare dei suggerimenti su come gestire la faccenda di intelligenza artificiale e editoria, che è quello di cui poi si parlavano e di cui parleremo ancora riguardo i diritti d'autore, il copyright sui testi prodotti dai giornali e come li ha, li sfrutta, li usa. Prosegue poi l'articolo in un altro estratto. È evidente che una commissione del genere può finire per avere molta influenza oppure nessuna, a seconda di quanto il governo deciderà di ascoltare i suoi suggerimenti. E la commissione si occuperà principalmente di due cose. Da un lato, queste sono dichiarazioni dello stesso Barachini, da un lato la difesa dei diritti d'autore sulla quale la commissione AI per l'informazione farà le proprie osservazioni, che potranno costituire, tenuto conto della legislazione vigente, la base di una proposta normativa. Dall'altro la difesa dell'originalità del lavoro giornalistico e della responsabilità editoriale, che poi a questo si dovrebbe collegare anche la riforma dell'ordine dei giornalisti. Benissimo, comunque il tema è questo. Questa commissione farà dei rapporti, dei suoi racconti, darà dei consigli che riguardano il diritto d'autore, la protezione del lavoro giornalistico e quindi le interazioni tra il lavoro dei giornalisti che producono dei pezzi e l'intelligenza artificiale. Riguarda un aspetto molto specifico, molto verticale, potrebbe risolversi in un lavoro di qualche mese che produce qualche consiglio, magari neanche ascoltato e tutto qua, basta. Quindi anche strapparsi le vesti per l'inadeguatezza di un presidente piuttosto che di un altro non ha molto senso. È meglio invece parlare nel concreto, nel merito di che cosa questa commissione farà e dovrà fare e vedremo i risultati che porterà. Il presidente ha un ruolo soprattutto di coordinamento tra i suoi membri che sono poi dei professori e insomma anche dei giornalisti insomma e quindi mi sembra è un ruolo soprattutto politico. Basta, volevo soltanto dire questo per aggiungere Pepe e anche la discussione che farete domenica con i vostri a pranzo e adesso andiamo nelle news del giorno. È martedì 9 gennaio, torno a parlare di un tema di cui abbiamo discusso qualche episodio fa riguardo la disputa tra OpenAI e New York Times per l'uso illegittimo, secondo appunto il Times, di materiale coperto da copyright, cioè dei propri articoli inseriti nei modelli di GPT. Ecco, sul Guardian trovo un articolo che si intitola appunto con una dichiarazione di OpenAI che dice che è impossibile creare dei tool di AI come c'ha GPT senza usare materiale appunto coperto da copyright. Questo è quanto dice OpenAI, lo dice in una submission alla House of Lords, quindi siamo in UK, in Regno Unito, e riporta appunto questo. Questo è un estratto di quello che dice nella submission OpenAI. Siccome il copyright oggi copre praticamente qualunque forma di espressione umana, inclusi i blog post, le fotografie, i post sui forum, il codice, il software code, quindi il codice sorgente e anche documenti governativi, sarebbe impossibile il training, quindi fare training dei modelli di AI senza usare questo materiale coperto da copyright. E poi aggiunge che limitare il training a materiale che non è coperto da copyright, come i libri o comunque in generale tutto quello che sta nel dominio pubblico, ecco, produrrebbe dei sistemi di AI inadeguati. Inoltre ha scritto un blog post, appunto OpenAI, rispondendo alla disputa proprio del New York Times, dicendo che loro supportano il giornalismo e anche hanno degli accordi di partnership con delle organizzazioni, ne abbiamo parlato, no? Come succede in Germania, come succede con Associated Press, ecco, e crediamo, proseguo a leggere dal blog post di OpenAI, crediamo che la causa intentata da New York Times non abbia alcun fondamento. Precedentemente, in realtà, OpenAI aveva parlato di fair use, quindi del fatto che qualunque materiale presente su internet ricada sotto, ecco, l'egida del fair use, cioè della possibilità di qualcuno di utilizzare quel materiale, appunto, per diritto di cronaca, mettiamola così, e nella submission, sempre alla House of Lords, dice OpenAI che crede che, in termini legali, la legge sul copyright non dovrebbe impedire il training. Poi noi sappiamo che ci sono, naturalmente, tante altre cause intentate contro OpenAI, si è aggiunta recentemente anche qualcosa che riguarda la musica, perché si è aggiunta Universal, che ha fatto causa a Antropic, che è la compagnia che oggi fa parte di Amazon, riguardo l'uso dei testi musicali che invece le apparterrebbero. Quindi, insomma, vedete che la difesa di OpenAI è un po' questa qua, no? O c'è il fair use, o comunque la legge sul copyright non dovrebbe impedire l'uso del training, ma in ogni caso, per creare i nostri software che fanno tanto bene all'umanità, insomma, dobbiamo per forza usare materiale coperto a copyright, altrimenti questo non sarebbe possibile. Vedete un po' come vi pare, questa è un po' la difesa. Tra l'altro, per guardare un po' meglio cosa ha scritto OpenAI sul suo blog, vado a prendere un articolo di Neowin che ne parla, fa un po' un riassuntino, e dice che la compagnia fondamentalmente ha rigettato qualunque accusa del New York Times dicendo che il Times stesso ha creato dei prompt ad arte in modo da far rigurgitare al modello degli articoli, dei pezzi di articolo completo del New York Times. Rigurgitare è un termine che si usa spesso per riferirsi al fatto che dei modelli riproducano dei pezzi testuali esattamente identici alla sorgente, al pezzo che trovano nel modello stesso. E dice OpenAI nel suo post, questi rigurgiti, ecco, che sono stati indotti dagli New York Times, sembrano essere da articoli vecchi di anni che poi hanno proliferato anche in numerosi siti di terze parti. E poi questi prompt sembrano essere stati intenzionalmente manipolati, anche includendo pezzi estratti degli articoli stessi per fare in modo appunto che il modello poi rigurgitasse. Inoltre aggiungono che questa causa legale è arrivata come una sorpresa, non se le aspettavano e gli è molto dispiaciuto. Inoltre ha detto che il Times ha menzionato tanti casi di rigurgito di questo tipo, ma non ha mai, ecco, anche sotto richiesta, assolutamente non ha dato, non ha fornito degli esempi di questo. Inoltre ha parlato infine degli accordi di licenza anche con le altre news agencies, come dicevamo appunto Associated Press, Axel Springer, eccetera, e chiude parlando dell'opt-out, perché OpenAI fornisce una modalità per fare opt-out, se qualcuno non vuole che i suoi dati siano utilizzati per fare training dei modelli, e tra l'altro New York Times ha proprio esercitato l'opzione di opt-out nell'agosto del 2023. Naturalmente, come abbiamo già detto varie volte, questa modalità è controversa, perché tu dovresti fornire invece un meccanismo di opt-in, cioè tu fai scraping di contenuti di cui non ti dovresti servire, e in seguito dice alle persone no, ma voi potete anche dirmi di non farlo seguendo questa procedura, no? Dovebbe essere il contrario. Chi vuole essere incluso in questo insieme me lo dice e io lo includo, altrimenti no, dovrebbe essere un po' questo il meccanismo, no? E invece non è così. E infine chiudo su The Verge, apparsa un articolo in cui si parla dei termini economici del deal tra OpenAI e alcune case, appunto alcuni publisher nell'editoria, e si parla di cifre. E vi leggo un piccolo estratto. The Information riporta che OpenAI offre tra un milione di dollari e 5 milioni di dollari all'anno per la licenza su news, su articoli e news coperte da copyright per allenare i propri modelli. E questo si affianca a un report recente che dice che Apple sta cercando delle partnership con le media companies per usare i contenuti per il training di AI, offrendo almeno 50 milioni di dollari in un periodo, insomma, in un contratto di più anni, ecco. Quindi, insomma, è un po' strano, no? Che da una parte la difesa sia. Bisogna poterli usare. C'è il fair use. Le leggi sul copyright non riguardano il training di modelli AI e comunque senza queste robe noi non potremmo fare quello che facciamo. Però poi c'è anche l'accordo con le news agencies per diversi milioni di dollari, tra l'altro. Soldi di Microsoft. Come stanno insieme queste due cose? Non lo so. Ora, come vi ho detto, rimaniamo sull'AI. Oggi le news sono tutte sull'AI. Però siamo nello spettro legale della faccenda perché ci sono delle aziende che offrono dei servizi che invece sono completamente legali, a quanto pare, almeno a quanto si sta. e vi do una news che arriva direttamente dal CES di Las Vegas. Poi al CES ovviamente arrivano un sacco di news, soprattutto riguardo all'hardware, prodotti nuovi, eccetera. Magari quando finirà potremmo fare un po' un riassuto delle cose più interessanti. Non lo so. Ma intanto questa la volevo includere perché appunto parla del tema di oggi ed è un nuovo servizio offerto da NVIDIA e Getty Images. E riguarda appunto la creazione di materiale stock, ecco, di photo stock, che si chiama Generative AI by iStock. Ecco, magari mentre vi faccio un riassunto, vi faccio vedere a chi sta guardando anche il video promozionale di questo nuovo servizio. Bene, è fondamentalmente un servizio di generazione di immagini basato sulla IA che si adatta alle attività commerciali, come tutte le immagini stock. E questo utilizza la libreria di Getty Images, quindi tutte immagini già licenziate da Getty Images. Si basa su NVIDIA Picasso, che è una piattaforma per creare modelli personalizzati in IA che poi permette di generare delle immagini, dei video, anche degli asset 3D, insomma, tutto quello che vi aspettate da prompt, da prompt testuali. Inoltre, fornisce delle funzionalità di editing, quindi ha delle API che permettono di aggiungere, sostituire, espandere elementi nelle immagini generate, naturalmente usando NVIDIA Studio. Inoltre, tutto questo ha della sicurezza commerciale, perché le immagini generate da questo prodotto sono protette legalmente, includono i diritti d'uso per i clienti. Quindi questo è il nuovo prodotto, insomma. Se vi servono immagini stock, ma originali, creati da vostri prompt, ecco, questo potrebbe essere un servizio che vi interessa. Non fate come Wizard of the Coast, che è produttrice del gioco di carte, sapete, Magic the Gathering, insomma, che ha ammesso di aver commesso un errore, pubblicando un'immagine promozionale che include dei pezzi, a quanto pare, generati, almeno in parte, con l'intelligenza artificiale, nonostante una politica interna che vieta l'uso del IA nella sua arte. Tra l'altro, uno degli artisti che genera appunto dei disegni per le sue carte ha dichiarato pubblicamente di aver finito la sua collaborazione con Wizard of the Coast, e poi la stessa si è dovuta scusare, ha rimosso i post, insomma. Brutto affare. Fate le cose bene e legalmente, eh? In maniera trasparente, si può fare. Rimango su Ars Technica per vedere la nuova versione di Mi Journey, quindi il modello per generare immagini, che a quanto pare è ancora più dettagliato del solito. Intanto che vi faccio un po' un riassunto, vi faccio scorrere un po' di immagini generate dall'articolo appunto per fare uno showcase delle capacità del nuovo modello. Insomma, si tratta di questo nuovo modello tranciato in versione alfa, proprio qualche giorno fa, che può creare immagini molto dettagliate, molto realistiche, a partire appunto dai soliti prompt. E i fan di Mi Journey, che stanno sperimentando con questo nuovo modello, hanno condiviso vari risultati, insomma, sui social, e hanno commentato. Alcuni apprezzano la qualità, la maggior qualità, e anche la maggior varietà delle immagini, però altri stanno notando dei problemi di contrasto, dei problemi di saturazione eccessiva, e anche qualche problema di interpretazione dei prompt. Poi invece alcune critiche si concentrano sul tema del dettaglio, cioè del troppo dettaglio. Cioè ci sono alcune immagini che sembrano avere un livello di dettaglio troppo alto rispetto alla realtà, ecco, e quindi le fanno sembrare meno reali, perché la realtà non è così dettagliata apparentemente, quanto quello che produce Mi Journey. Non lo so, insomma, valutate voi rispetto all'output che state vedendo. E naturalmente non dimentichiamo che anche in questo caso ci sono delle critiche da parte di artisti che si vedono depredare il proprio lavoro, ecco, e inclusi in questo modello, senza il loro permesso, e quindi questa roba rimane anche, ecco, a degli echi anche in questa news qui. Insomma, però Mi Journey vi sei. E infine l'AI arriva su Audacity, il software per fare editing di audio. C'è un plugin che vi fornisce delle nuove capacità di AI creato da Intel con OpenVINO. OpenVINO sta per Open Visual Inference and Neural Network Optimization, ecco, che è un toolkit open source sviluppato da Intel proprio per fare AI inference. Cosa vi dà questo plugin? Beh, vi permette intanto di fare trascrizioni del parlato, di una traccia audio e traduzioni. Questa funzione è possibile grazie all'uso di Whisper di OpenAI. Torniamo sempre su OpenAI. Poi potete fare soppressione del rumore, quindi rimuovere il rumore di fondo, utilizzando il modello Dance Unet, ecco. e in più potete fare anche della generazione, è anche generativo, potete fare generazione di musica, quindi creare dei nuovi brani, a partire da un testo che specifica il genere. Questo usa il modello Refusion, ecco, sempre basato su Stable Diffusion. Inoltre potete anche remixare un modello, uno stile musicale già presente, con un altro, selezionando porzioni delle tracce. Infine c'è la separazione musicale, quindi dove sta definita Music Separation. Quindi vi potete dividere una canzone, un pezzo, in, nelle varie tracce, quindi la traccia vocale o le tracce strumentali, insomma, estrarre quello che vi interessa da un pezzo, quindi producendo nuove tracce, a partire da questo, che poi usate come vi pare. Questa roba qua, tutto questo ben di Dio, è disponibile in versione bundle, diciamo, pacchettizzata, per Windows. Se però invece siete su Linux, potete usarla lo stesso. Il problema è che non c'è un vero pacchetto. Dovete scaricarvi tutti i sorgenti e tutti i modelli, e poi compilarveli voi. Ci sono delle documentazioni che vi spiegano come fare, però naturalmente è un pochino più complesso. Speriamo nell'arrivo, insomma, di un pacchettone già pronto, che permette di installarvi e finirla lì, e poi utilizzare queste nuove funzioni, proprio su Audacity. Infine, rapidamente, perché sono andato decisamente troppo lungo, vi do due link per congedarmi. Il primo è Nestflix, lo trovate su nestflix.fun, è una raccolta di film dentro i film, cioè nested film, tutte quelle serie di film, o serie tv, o fake trailer, prodotti per essere inclusi dentro dei film veri, o dei prodotti delle serie tv, insomma, più ampie, e è un catalogo di tutto quel materiale. L'esempio più classico che posso farvi è lo show di Greta Keck e Fichetto, oppure il gangster movie che guarda Kevin dentro, ma abbiamo perso l'aereo, eh? Insomma, trovate un database dove potete vedere tutto questo materiale ben collezionato e classificato. Ci trovate, per esempio, Gandhi 2, eh? Potrebbe essere una opera interessante da realizzare davvero. Ma, infine, invece, torniamo sui temi a noi cari. Vi segnalo questo articolo, si intitola The Website vs Web App Dichotomy Doesn't Exist. E, come dice il titolo, è un blog post scritto da Jake Lazaroff, poi vi lascio il link nella descrizione di questo episodio, dove va a fare un po' un'analisi di, appunto, di questa distinzione che non ha senso tra un sito web e una web app, e invece include vari pezzi di entrambi, quindi dall'analisi dei documenti al JavaScript, che poi rende la pagina più dinamica, ecco, con le nuove tecnologie che ci sono oggi tra HTMX e i web component che possono rendere il tutto, insomma, più dinamico per l'utente, naturalmente l'offline, l'uso delle PWA, insomma, è una bella disamina dello stato attuale del web che secondo me vale la pena di leggere per farsi ancora più una cultura. Ripeto, The Website vs Web App di Kotomi che doesn't exist sul blog di Jake Lazaroff. E ho finito qui, grazie per avermi seguito anche oggi, saluti brevi, perché questa puntata sarà troppo lunga, quindi alla prossima, ciao! Grazie a tutti!